Sono Elisa Ablese e ho partecipato alla Porsa del Mercato del Lavoro 2016 e tramite questo evento, nonostante ci fossero un po' altre persone a partecipare e la vota mi avesse un po' perso ansia, sono riuscita a trovare lavoro a Florence Town. È stata una fortuna perché sono riuscita a trovare lavoro che stiamo cercando, quindi è stato proprio un incastro di eventi in realtà, è il lavoro giusto. Grazie per la visione! Grazie! Grazie a tutti!